buongiorno a tutti siamo arrivati al termine di questi dieci mesi di festeggiamenti per i dieci anni di sinestesia sono stati dieci anni lunghi e sono stati anche dieci mesi lunghi perché abbiamo incontrato e intervistato un sacco di persone incredibili che ci hanno raccontato le loro storie che ci hanno raccontato la loro visione legata ai temi tanti temi che abbiamo voluto affrontare nel nostro percorso e nel nostro particolare modo di festeggiare i dieci anni della nostra azienda e ci sono anche tanti ricordi di questi dieci anni che ci portiamo assolutamente alcuni molto forti alcuni molto recenti non so a te cosa viene in mente quali sono le guarda alla fine con questi con questi festeggiamenti abbiamo toccato un po' quelli che sono stati gli argomenti sui quali ci siamo concentrati come sinestesia sia nel passato ma soprattutto che sono gli argomenti del futuro e la nostra esperienza passa poi attraverso tanti di questi temi che riguardano sia le persone che lavorano in sinestesia sia la tecnologia che ovviamente fa parte poi della nostra della nostra vita quotidiana nell'azienda ma poi soprattutto sono emozionanti abbiamo visto anche quanta passione ci hanno raccontato tutte le persone che ci sono venute a trovare e con le quali abbiamo colloquiato su questi temi la passione poi è proprio l'argomento principale che ci ha sempre guidato io ad esempio penso al primo droid con frase se vuoi raccontare un po di questo sì sì sinestesia tra l'altro ha avuto come claim per tanti anni tecnologia e passione noi ancora è così di fatto anche se insomma ci siamo poi evoluti in questa direzione è il primo droid con è stato uno dei momenti topici mi ricordo quando abbiamo deciso appunto di organizzare la conferenza abbiamo cominciato a lavorarci al tempo eravamo anche in pochi erano un piccolo gruppo in sinestesia quindi è stata una scommessa abbiamo iniziato a lavorare al sito abbiamo pubblicato i contenuti e tutto ma il momento più pazzesco è stato quando qualcuno ha comprato il primo biglietto il momento abbiamo detto cavolo adesso dobbiamo fare davvero perché fino a quel momento era ancora rimasta quasi come una cosa eterea no la conferenza era era ancora in qualche modo nelle nostre menti da lì è diventata qualcosa che era vera tra l'altro poi arrivando nell'ultima edizione fisica a quasi mille partecipanti anzi più di mille partecipanti quindi vedere tutte quelle persone è stato veramente un momento emozionante e poi c'è stato il momento della pandemia certo che ci ha costretti a passare online non solo i nostri eventi ma tutto quello che facevamo tra l'altro la pandemia ha messo proprio in ci ha messo di fronte a tanti temi che sono stati poi anche quelli che abbiamo affrontato nei festeggiamenti il fatto di dover includere i nostri ragazzi da lontano e cercare di mantenere quelli che sono poi i valori che noi insomma abbiamo proprio scritti nel dna della nostra società e quello è stato un momento veramente difficile dove la creatività il fatto di giocare quindi tutto il discorso legato al gaming il fatto di includere tutte le persone che si trovano in condizioni molto differenti quindi chi era da solo a casa che aveva la famiglia che aveva i bambini piccoli e trovare delle soluzioni per poi portare avanti la società in quei momenti è stato sicuramente una delle sfide più importanti che ci siamo trovati ad affrontare proprio così ci ha messo la sfida che ci ha messo tutti alla prova nessuno escluso e credo che lo sforzo che abbiamo fatto tutti insieme sia proprio stato quello di cercare di continuare ad andare avanti portando avanti non solo quello che facevamo prima ma anche tutti i valori e tutte le le cose in cui crediamo e continuiamo a credere nell'inclusione delle persone mettere le persone al centro le persone per sinestesia per noi sono sempre state il motore sono tuttora saranno sempre il motore dell'azienda saranno quelle che fanno funzionare la nostra azienda è nata attorno alle persone è basata su sulle persone non è retorica ma è proprio reale perché quello che facciamo dipende esclusivamente dalle competenze dalla passione e torniamo al discorso di prima e dalla voglia e la volontà di creare il posto dove volevamo lavorare noi in primis sinestesia nasce con quell'idea lì la vera il vero seme la vera idea di base di sinestesia di dire vogliamo creare una società dove vorremmo lavorare e quindi dove vorremmo che poi anche le persone con cui collaboreremo e collaboriamo vogliono vogliono essere il posto in cui vogliono vogliono continuare a essere anche nel futuro e poi c'è stato un sacco di creatività perché il droid con di cui parlavi in pochissimo tempo abbiamo dovuto trasformarlo in un evento completamente digitale che è stata un po la sfida di tutto il mondo che opera nel digital noi abbiamo trovato poi anche una soluzione interessante sia dal punto di vista tecnico che poi dal punto di vista della riuscita dell'evento stesso e l'altro nostro evento swift heroes ha avuto più di 1500 contatti da tutto il mondo quindi queste sono sono poi le cose che ti fanno capire che insomma credendo poi nei nelle cose che si fanno si possono raggiungere veramente tanti risultati ma adesso che ci parliamo in questa veste intervistatore intervista che non si capisce bene che intervista chi partiamo magari anche da da che cosa significa sinestesia perché sinestesia poi è tu che hai fondato questa società è un nome che assolutamente evocativo quindi richiama poi alla fine i valori è una visione che tu hai avuto dieci anni fa e che noi stiamo portando avanti insieme guardando sempre al futuro però evocativo il nome perché hai scelto sinestesia allora era è un nome che mi frullava nella testa da tanto tempo quando quando poi appunto c'è stato da scegliere il nome per la mia società ho pensato che sinestesia fosse fosse quello giusto sinestesia è una parola greca di origine greca che è composta da due parole che significano sentire insieme il sentire proprio nel senso dei cinque sensi no quindi proprio nel senso della percezione ed era qualcosa che aveva sicuramente un richiamo per esempio alla multimedialità no a tutto quello che poi facciamo anche a livello pratico nella tecnologia in quello nel digitale però aveva anche un importante richiamo alla stare insieme al vivere l'esperienza insieme e questa parte è l'altra componente fondamentale dell'idea no dell'intuizione di sinestesia cioè quella di voler comunque non essere una azienda tradizionale ma un'azienda che comunque sperimenta molto osa ogni tanto fare dei passi che vanno in direzioni un po' fuori dagli schemi e quindi tutte le varie intuizioni anche di cui parlavi prima no il droid con Swift Tiros dopo Girls Tech tutto il mondo della parte di Academy che sono state delle idee delle intuizioni che abbiamo voluto portare avanti ma come questa tante altre cose l'area che si occupa di innovazione no su interno quindi tutte le attività che portiamo avanti con le start up sono tutte emanazioni di quella che poi è un'idea di imprenditoria un po diversa e davvero innovativa di di per sé no quindi una voglia di fare un qualcosa che abbia anche poi un impatto che va al di fuori e io credo che la grande fortuna che ho avuto nel percorso dalla nascita di sinestesia in avanti è stata poi quella di incontrare le persone che hanno capito questa filosofia che non è così immediata che va capita e quindi mi rendo conto che non è sempre facile e hanno deciso di fare questa strada insieme in questo senso non avrei potuto fare quello che ho fatto non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto insieme se non ci fossimo trovati e non avessimo anche condiviso appunto questo questo progetto e questa idea un po folle a tratti che che sinestesia ma io ho fatto fatica all'inizio lo sai ne abbiamo parlato tante volte perché è un mix fra la concretezza che deve avere un'azienda e il sogno di poter fare questa azienda attraverso un percorso non convenzionale legato moltissimo a quelli che sono i valori che tu in primis hai messo nel momento in cui hai pensato a questa società quindi festeggiarla attraverso un percorso fatto veramente di contenuti importanti condivisi con personalità di grandissimo rilievo inutile ricordarle nel senso che è stato veramente emozionante per tutti e due incontrare queste persone che hanno poi portato la loro esperienza che aveva comunque come filo conduttore esattamente l'approccio che noi abbiamo avuto poi nello sviluppare sinestesia in questi anni quindi pensare al futuro in maniera non convenzionale come dicevi tu rischiando rischiando anche di battere qualche facciata ma investendo su quelle che erano le idee che noi abbiamo abbiamo poi portato avanti concretamente parlando del nostro progetto di questo progetto di tutte queste interviste che poi ci hanno messo un po alla prova perché non è il nostro mestiere è intervistare le persone è stato emozionante bellissimo io mi sono divertito un sacco un sacco e diciamo che questo progetto noi l'abbiamo pensato in ottica di restituire qualcosa che abbiamo tanto ricevuto in questi anni nel nostro percorso quindi è ed è un anche questa una una modalità che noi cerchiamo di ripetere anche sul nostro territorio torino per noi è importante adesso ci siamo allargati un po anche su altre città però il fatto di restituire qualcosa che abbiamo ricevuto ci piaceva moltissimo come argomento in generale come fine di tutta questa iniziativa ma sì sinestesia nasce a torino torino una città un po strana una città in cui tante cose nascono poi a volte le cose hanno successo si perdono finiscono in altri in altri luoghi noi in altre città invece quello che noi vogliamo fare proprio di investire anche tanto e restituire tanto a quello che è la città droid con l'abbiamo voluto fortemente qui anche se forse sarebbe stato più facile farlo a milano tutti gli eventi principali che facciamo di vogliamo portare sul territorio e io sono convinto che torino abbia una pazzesca potenzialità nei termini di innovazione nei termini di crescita e anche economica legata al mondo del digitale dell'innovazione qua sono nate stanno nascendo veramente tante aziende e tante iniziative che poi sono veramente andate in giro per il mondo pensiamo anche all mpeg e adesso mpi ai non il consorzio che lavora con l'intelligenza artificiale per le definizioni nuovi standard che è nato sostanzialmente a torino da chiariglione non il padre dell'mp3 ma come questo ne stanno succedendo tante di cose in questa città tanti progetti le ogr sono diventate sempre di più anche un centro nevralgico di incontro dove anche noi abbiamo abbiamo voluto essere presenti molte molte iniziative sembra che stiano nascendo potrebbero nascere come l'istituto italiano dell'intelligenza artificiale speriamo che si riesca in qualche modo a portarlo anche se le notizie sono contrastanti in questa direzione allora bisogna secondo me lavorare tanto per per fare qualcosa che poi restituisca il territorio ma restituendo il territorio per restituisca anche a tutti noi il nostro modello di imprenditoria è molto improntato a questo tipo di approccio lo dico lo dico sempre a me piace molto la storia di olivetti e mi mi ispiro e ci ispiriamo tanto a con il dovuto rispetto ovviamente per per quello che è stata una realtà incredibile proprio del nostro territorio di fatto del piemonte quella era era una visione molto avanti e oggi se se si fa imprenditoria secondo me non si può prescindere da quel tipo di approccio e da una responsabilità sociale dell'imprenditoria da un'attenzione alla cultura all'inclusione tutti i temi che fanno parte no delle dieci delle dieci tematiche che abbiamo toccato in questi in questi dieci mesi quando sono arrivati in sinestesia noi eravamo poi alla fine due sviluppatori cioè nel senso noi nasciamo come sviluppatori e quindi non e non lo rinneghiamo e non si rinnega assolutamente io tra l'altro non ero neanche particolarmente bravo così almeno tutti quelli che vengono l'intervista non dicono ah ma lui e quindi quando sono arrivati in sinestesia il mio pensiero era arrivare in una realtà assolutamente puramente tecnica mentre invece poi nella tua testa e poi insieme nella nostra testa c'è stato invece una grande trasformazione perché sinestesia effettivamente e ha partecipato nella digital transformation ma soprattutto su se stessa quindi noi siamo diventati poi qualcos'altro rispetto a quelle che erano le nostre il nostro setup di base quindi il nostro setup era fatto di mobile di web di commerce di tecnologia che poi siamo riusciti in qualche modo proprio con la volontà di trasformarci in qualcosa di differente molto più orientato verso il futuro ci siamo trasformati abbiamo cominciato ad affrontare temi differenti oggi sono sono temi che abbiamo affrontato con i nostri ospiti quindi abbiamo parlato di intelligenza artificiale di gaming di tecnologie disruptive ovviamente abbiamo parlato di mobile perché poi mobile sinestesia è stata veramente una società che ha anticipato i tempi rispetto allo sviluppo soprattutto in italia quindi questo toccare anche questi temi nelle nostre nei nostri festeggiamenti era doveroso per ricordarci le nostre radici ma per poi andare a raccontare quello che è anche la nostra visione di futuro si radici che sono tuttora molto solide perché comunque sinestesia è tuttora molto basata sull'elemento tecnologico non mobile web sviluppo front end back end e commerce sono dei temi che tuttora sono forti e quello che abbiamo fatto è stato quello di guardare un po oltre evitare che la tecnologia è quello che la componente digitale venisse vista solo come una commodity un qualche cosa di rimpiazzabile ma dare un valore aggiunto reale quindi costruire tutta una serie di competenze al di sopra di anche poi di marketing digitale anche di consulenza strategica anche di design di progettazione tutto quello che è il prodotto il servizio digitale l'esperienza dell'utente oggi noi ci definiamo una digital experience company non per nulla no cioè partorito con grande una società che si occupa di esperienza digitale quindi tutto quello che si 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 affronta quando ci si interfaccia col mondo digitale non dalla dalla progettazione dal design fino alla comunicazione quello che è tutta la parte di insomma di trasformazione digitale a 360 gradi uno degli argomenti che hanno poi è stato un po il filo conduttore di tante interviste è stata la contaminazione in fondo quello che abbiamo fatto poi è stato farci contaminare da quelli che sono argomenti e grandi temi non tecnici quindi abbiamo visto come l'inclusione la sostenibilità la cultura in generale la creatività sono parte di quella contaminazione che ci ha permesso di crescere e di far crescere le persone intorno a noi in maniera sinergica rispetto al nostro progetto diverse persone nelle interviste parlavano proprio di come la contaminazione sia un argomento estremamente importante nella crescita di un'azienda ma delle persone quindi anche oggi tutti gli argomenti che riguardano l'inclusione che riguardano il gender gap sia in ambito tecnologico che in ambito sociale e culturale debbano essere affrontati pensando a quali possano essere veramente le ricadute positive in una qualsiasi contesto della vita e questo è uno dei motivi per cui vogliamo sempre di più lavorare in questo ambiente e si la contaminazione è alla base della creatività lo diceva brachetti diceva di fatto anche i più grandi creativi remixano in qualche modo quelle che sono le esperienze che hanno avuto l'altro ieri o dieci anni fa che messe tutte insieme hanno permesso di crescere a quel giardino interiore della creatività e hanno permesso di creare qualche cosa di nuovo e quindi questo è fondamentale ed è uno dei fili conduttori della nostra azienda e poi invece parlando del tema della CSR adesso se ne parla tanto ed è sempre di più mainstream adesso diventerà quasi indispensabile avere un profilo di quel genere legato quindi alla componente sociale al componente culturale in questo anche noi secondo me siamo stati dei precursori nel senso che questa cosa ce l'abbiamo avuta sempre l'abbiamo sempre voluta fare ancora prima che fosse così codificata adesso vogliamo diventare anche società benefit e probabilmente entro fine anno se tutto va bene riusciremo a farlo e da lì intraprendere anche un percorso di certificazione come B Corp ma si tratta di un percorso naturale per me non è un qualcosa di artificiale che ci andiamo a creare perché in qualche modo fa figo adesso averlo è proprio qualche cosa che nel nostro dna da sempre che ci ha sempre caratterizzato un altro elemento che io ho trovato sempre interessante che si intersega proprio con quello che è la nostra modalità e quindi i nostri argomenti di discussione in questi festeggiamenti e il nostro rapporto con le start up è il fatto di andare a cercare quelle che possono essere delle disruptive technologies piuttosto che dei prodotti o del o delle persone poi a dire la verità molto interessanti ovviamente partendo sempre dal nostro territorio quindi noi abbiamo poi fatto un percorso insieme a tante start up a cui ci siamo approcciati anche con ruoli molto differenti però anche questo fa parte poi di guardare il futuro in maniera aperta perché i ragazzi giovani ad esempio waibo per citarne citare gli ultimi una recente abbiamo noi vediamo proprio quella freschezza e quella proprio quantità di idee e di entusiasmo e di valori che poi scegliamo come partner per accompagnare dal lato alcune idee imprenditoriali interessanti ma anche cercare di sostenere quella che è la passione dei ragazzi che fondano una start up e ci mettono tutta l'anima e magari mettere anche a disposizione la nostra esperienza e le nostre facciate prese e le nostre difficoltà che si sono trasformate in un'esperienza che magari per un ragazzo è preziosa quindi anche lavorare con i ragazzi i nostri progetti con i ragazzi sono una cosa di cui andiamo veramente orgogliosi pensiamo a grosecca ad esempio grosecca è stata è stata un'emozione particolare il fatto di poter presentare un'idea differente di quello che è un approccio invece molto antico cioè che la donna non sia portata o non sia in grado di fare dei lavori legati a tutto il mondo stem e questa è veramente va beh poi è continuamente ribaltata questa situazione perché le donne che fanno successo nel nostro campo ormai sono tantissime o nel campo stem sono tantissime però in italia dove si arriva anche da una cultura ovviamente di un certo tipo questo argomento poterlo affrontare poter incontrare delle donne che all'interno anche di grosse di grosse compagnie hanno fatto dei percorsi di successo dimostra ai ragazzi che poi noi andiamo a formare anche attraverso i corsi di future makers o girls tech stessa dimostrare che una donna non solo può essere parte di questo meccanismo importante ma può essere assolutamente molto più brava creativa e fantasiosa è protagonista può essere protagonista ed è fondamentale che esistano questi role model anche femminili role model maschili nel nostro nuovo ambito nell'ambito della tecnologia dell'innovazione ce ne sono tanti soliti no mask in passato steve jobs no queste persone carismatiche è importante andare a cercare anche dei role model femminili perché quelli poi ispirano sappiamo bene che uno dei motori più potenti proprio l'ispirazione che traina e che può effettivamente essere una cosa che fa la differenza e girls tech nasce tra l'altro appunto da future makers invece che è un altro progetto di quelli un po folli ambiziosi che abbiamo voluto creare che questa scuola di coding robotica stem in generale insomma di innovazione per bambini ragazzi in età scolare che è nata così in sordina e che da essa poi ha fatto insomma sono nati progetti come gross tech sono nati i corsi in presenza i corsi online durante la pandemia che hanno fatto anche tantissimo successo noi che sono stati molto seguiti questo perché crediamo che alla fine la formazione sia molto molto importante e anche l'abilitazione per i ragazzi a poter scoprire che possono vedere un futuro nella tecnologia nelle materie diciamo tecnico scientifiche come una cosa fondamentale abbiamo tanto bisogno in questo momento in italia a torino ma in generale in sinestesia di talenti e tutte le aziende che lavorano al nostro mercato sanno benissimo che è difficile trovarli sono pochi non sono non sono sufficienti a rispondere alla domanda e quindi la formazione anche le collaborazioni per esempio che portiamo avanti con i ts con università col colitecnico esatto col colitecnico sono e sono un elemento la formazione elemento fondamentale per crescere le future generazioni e anche perché poi e questo è un tema che è ancora più importante noi dovremmo abituarci a una formazione costante permanente quindi l'academy che abbiamo creato e che si rivolge poi alle aziende si rivolge agli adulti si rivolge a professionisti e va nella direzione anche proprio di fornire questo tipo di supporto perché ormai sappiamo bene che appunto i bambini oggi non sanno che lavoro faranno da grandi ma probabilmente il lavoro che faranno da grandi neanche esistono esiste molti dei lavori attuali 20 15 20 anni fa non esistevano ma comunque questa cosa qua succederà sempre di più anche nel mondo adulto quindi l'idea di fare lo stesso lavoro per tutta la vita ormai è sempre più da boomer è sempre più nel passato nel futuro probabilmente ci dovremo reinventare e quindi formarsi anche in età adulta e continuare a imparare è fondamentale adesso dobbiamo farci questa domanda che abbiamo fatto tutti abbiamo ammorbato tutti con questa domanda che a dir la verità richiederebbe una bella sfera di cristallo soprattutto per la velocità che dicevi anche tu adesso e la la domanda è caro francesco come sarà il futuro tra dieci anni come lo immagini il futuro tra dieci anni tutto sul tempo non posso farla a te come sarà il futuro difficilissimo rispondere oggi stiamo vivendo dal punto di vista della tecnologia una crescita esponenziale quella che viene chiamata la singolarità tecnologica da alcuni analisti e questa accelerazione fa sì che dal punto di vista della tecnologia sia quasi impossibile fare delle previsioni a lungo termine si possono fare delle ipotesi si può provare a pensare a quelle che saranno alcuni trend non solo del digitale non possiamo parlare della della medicina della bioingegneria dell'esplorazione spaziale ci sono delle cose che stanno succedendo negli ultimi dieci anni che forse neanche immaginavamo quando eravamo ragazzini nei nostri sogni più 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 sfrenati e ovviamente tutte queste accelerazioni tecnologiche hanno un grande impatto poi sulla società ed è ancora più imprevedibile questo tipo di impatto perché invece la società e gli esseri umani non crescono a velocità esponenziali crescono quando va bene in modo lineare e a volte neanche neanche così e quindi questo fa sì che poi ci si trovi impreparati e secondo me quello che sta succedendo in questo momento nel mondo è proprio che la società non è pronta a tutto quello che è la tecnologia la scienza le innovazioni che stanno venendo fuori a una velocità assurda ci stanno mettendo di fronte quindi questo questo porrà una serie di interrogativi e porrà una serie di anche di sfide nel prossimo futuro a cui dobbiamo prepararci quindi quello che che vedo sicuramente sono tanti cambiamenti e la necessità di come dicevo prima di di studiare e di cercare di informarsi cercare di essere parte attiva di questi cambiamenti e non di subirli perché è l'unico modo probabilmente poi per arrivare a un futuro che effettivamente sia migliore è una visione ottimistica e non voglio essere pessimista nel senso che tante cose stanno migliorando anche se ci sono tante incertezze perché periodi di cambiamento la pandemia poi è stata ovviamente un acceleratore di tante cose anche tecnologiche anche nell'adozione anche nella cultura anche nel modo di pensarle ma ovviamente anche di tanti problemi che sono diventati ancora più forti anche problemi sociali insomma anche problemi a livello geopolitico quindi questo bisognerà saranno delle sfide davvero interessanti da vedere nel futuro. Spero in una cosa, concordo con la tua visione, la visione che hai appena dato, spero che tutti questi cambiamenti in qualche modo siano disruptive rispetto anche a quelli che sono i rapporti umani cioè noi diciamo lo sviluppo della tecnologia se vogliamo ha dato anche un impulso a un allontanamento dal punto di vista umano delle persone quindi la tecnologia che noi diciamo essere sinestesica o sinestetica che invece dovrebbe essere bella, inclusiva, da fare insieme, che permettesse alle persone di stare più insieme nella realtà ha anche creato molta divisione dal punto di vista sociale quindi io spero che nei prossimi dieci anni la tecnologia invece impari e lavori sempre di più per unire di nuovo le persone alcune innovazioni tecnologiche che abbiamo visto hanno permesso di velocizzare processi di fare la spesa online, di organizzarsi viaggi, di farsi tutta una serie di cose cambiando il panorama del mondo, il panorama lavorativo come dicevi prima, nuove professioni, nuove opportunità in qualche modo ha lasciato indietro anche delle persone, quindi ha creato del bene e ha creato anche delle difficoltà però con la maturazione, questo deve arrivare a un processo di maturazione, spero che le persone e la socialità che abbiamo visto quanto essere importante poi dopo la pandemia abbiano un ruolo decisivo nelle scelte che si faranno a livello generale su argomenti tecnologici perché senza il rapporto umano e senza essere davvero inclusivi verso le persone che ti stanno vicino si perde completamente il valore poi anche di quello che facciamo noi, quindi di fare una tecnologia bella, funzionale ma senza questo tipo di valore si perde completamente tutto altro tema importante è tutto il tema ecologico e tutto il tema della sostenibilità perché se la tecnologia veramente aiutasse a fare dei passi avanti rispetto a questi temi e i ragazzi sono assolutamente attenti a questi temi, molto di più di quanto lo siamo stati noi che arriviamo dal consumismo sfrenato come cultura quindi io spero anche che questi aspetti che noi tra l'altro abbiamo anche visto con diverse personalità vengano veramente affrontati anche attraverso la tecnologia, speriamo di farne parte anche noi tra dieci anni con sinestesia o con quello che faremo tra dieci anni e tutti i proventi raccolti da questo libro, da questa iniziativa andranno devoluti all'ospedale infantile Regina Margherita e ai profughi afghani richiedenti asilo in Italia quindi insomma come appunto è nel nostro stile, nel nostro modo di essere abbiamo pensato di restituire questo regalo, questo grande regalo che ci hanno fatto tutte le persone che hanno contribuito a questo progetto concretizzando insomma in un'attività che verrà devoluta a scopi benefici con questo si conclude anche questo percorso di interviste questo lungo festeggiamento almeno per questa parte di video che però non è finito, faremo ancora un sacco di cose ci saranno qualità e sorprese assolutamente e però con questa occasione vogliamo ringraziare ancora una volta tutti quelli che l'hanno reso possibile quindi tutte le persone che si sono prestate nelle interviste tutte le persone che hanno lavorato al progetto e poi un grande grazie per i dieci anni di sinestesia voglio anche dire a tutte le persone che fanno parte di questa grande famiglia che poi hanno portato un pezzo di sinestesia nel mondo come qualcuno dei ragazzi che ha preso strade differenti ci hanno detto, ci porterò sempre con me e per dove andrò porterò la testimonianza di quello che ho imparato e che ho visto qui quindi grazie, grazie a tutti ci vediamo nel futuro, tra dieci anni, anche prima grazie 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 grazie